Si è svolto a Scafa un interessante convegno sui cementifici organizzato da Federica Chiavaroli, consigliere regionale del PDL, in collaborazione con l'assessore regionale dell'ambiente Daniela Stati e Giovanni Tontodonati, consigliere comunale di Scafa. L'evento, dal titolo I cementifici, problematiche ambientali e opportunità per l'economia, è servito per offrire una riflessione scientifica sul tema, confrontando le posizioni antitetiche dell'ITEC, vale a dire l'Associazione Italiana Tecnico-Economica del Cemento, secondo la quale l'utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti è un'opportunità sia per l'economia sia per l'ambiente. È le istanze dell'ISDE, Associazione Medici per l'Ambiente e degli Ambientalisti, che definiscono queste scelte pericolosissime per la salute. La responsabilità nostra che rappresentiamo l'istituzione più importante in questo momento, che è quella regionale, che deve prendere decisioni in proposito. Dicevo, la nostra responsabilità sarà coinvolta ai massimi livelli, in modo tale da trovare il compromesso giusto e necessario tra tutti gli interessi in campo, che sono gli interessi alla tutela della salute e dell'ambiente, certamente e in primo luogo, ma anche a quelli dello sviluppo, certo lo sviluppo sostenibile del nostro territorio. Di recente l'assessorato regionale all'ambiente ha istituito un tavolo tecnico di concertazione per modificare e integrare la legge che riguarda le norme sulla gestione integrata dei rifiuti, che consente l'utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti in sostituzione di combustibili fossili. Il confronto di Scafa è stato comunque molto utile per considerare tutti gli interessi in campo, in primo luogo quello della salute dei cittadini.